Cari amici, il fatto che si era molto sfigurato, come si vede da queste immagini, dove il lato sinistro è tutto schiacciato e poi il naso è rifatto. Cari amici, il fatto che si era molto sfigurato, come si vede da queste immagini. Il mio guaio è esattamente questo. Quando mi dovevo mettere con la mia prima ragazza, che mi aveva innamorato follemente, purtroppo ho fatto l'errore di specchiarmi. Ecco, non aggiungo altro.